Ciao ragazzi, allora oggi mi metto davanti alla telecamera per fare una cosa che non pensavo di fare, ma in realtà mi sento di doverla fare, da parecchi giorni sto pensando a questo e quindi eccomi qua. Fondamentalmente volevo parlargli di una cosa che a me ha colpito molto, la storia di Marcello e ho avuto l'onore di fotografare questo bambino insieme alla sua famiglia, mamma Vanessa, papà Filippo e la sorellina Vittoria. E non mi ero accorto praticamente che Marcello è effetto di una grave malattia che ha il femore più corto. Non sono un tecnico quindi non so spiegarvi i tecnicismi, ma vi invito veramente di cuore a visitare la loro pagina Facebook, hanno creato una onlus perché hanno bisogno del nostro aiuto. Io da parte mia, nel mio piccolissimo, sto cercando di fare una cosa che a breve vi spiego e a parte quella di invitarvi a donare il più possibile per loro, però io quest'anno che compio 50 anni, il 19 agosto farò 50 anni, volevo fare una piccola raccolta fondi per loro, praticamente donando tutto a loro. Ma siccome so che queste raccolte fondi non sono così, che ne so, viste con benessere da parte di tutti e quindi potrebbe anche andare male in un certo senso perché alla fine potrebbe anche non essere una raccolta che va a buon fine, allora ho deciso di fare un'altra cosa. L'unica cosa che io posso fare è proporre il mio lavoro gratis in maniera tale da dare qualche soldo a questi signori. L'idea che mi è bazzata per la testa è che questa settimana propongo quattro servizi fotografici famiglia, scusate ma io quando mi metto davanti alla camera sono un pampe, quindi chiunque mi vedrà lo sa, sono così, non riesco a fingere e quindi è palese che sono emozionato e anche imbarazzato. Però nonostante questo voglio farcela e vorrei fare quattro servizi fotografici, i nostri servizi family praticamente o servizio bambino che possiamo fare al parco o in studio con un'ora di servizio, dieci immagini, il fotolibro e l'album, scusate, non il fotolibro, che noi metteremo in vendita a 250 euro, quindi un prezzo molto scontato rispetto al prezzo di origine e le quattro famiglie che acquisteranno, perché solo quattro sono i servizi, non possiamo fare di più perché calcolate che per noi, per me, questo prezzo è automaticamente devoluto a loro, quindi cercherò di fare un qualcosa per far sì che loro ricevano qualcosa, questo è il mio concetto. Queste quattro famiglie che acquisteranno il servizio famiglia lo potranno fare entro sei mesi e pagheranno direttamente mamma Vanessa. Io non voglio assolutamente ricevere un euro, proprio per la trasparenza che mi contraddistingue in tutto quello che faccio. Altrimenti, se non volete mettervi in contatto con la mamma Vanessa, di cui non sa niente di quello che sto dicendo a voi, perché alla fine troverà anche lei questo video sui social senza che io gli avessi chiesto niente, potete passare di qui in studio e mettere all'interno del salvadenaio che mamma Vanessa portamelo, avremo disponibile qui e inseriranno i soldi là dentro, quindi per questo motivo vi chiedo di pagare con soldi contanti perché non potremo registrare questo pagamento come studio fondamentalmente perché questi soldi andranno direttamente a loro. Quindi io farò il post di questa iniziativa, spero vivamente che qualcuno capisca il senso di questo sforzo che io sto facendo e che magari qualcuno che aveva voglia di farsi un po' di foto fatte bene da qualcuno a cui piace far divertire i vostri figli approfitti dell'occasione, proprio nell'ottica di Marcello, questo è fondamentale. Chiunque verrà in negozio da me fino a fine anno probabilmente troverà un salvadenaio per lui, farò la raccolta fondi, ma se qualcuno vuole donare i soldi direttamente a loro, si collega alla loro pagina Facebook e a tutto questo. Io alla fine vi dico la verità, sono un papà felice, ho tutto, non mi serve niente, quindi anche i regali del mio compleanno che quest'anno pensavo di ricevere, ho chiesto a tutti i miei parenti, a tutti i miei amici di non pensare minimamente a farmi un regalo, ma di darmi una piccola donazione per Marcello. Io sono felice così. È tanto che volevo fare questa cosa, l'ho fatta, adesso sono felice, anche se sembra che spacchi il mondo, ma alla fine sono molto timido anch'io, come tutte le persone che vogliono fare qualcosa di veramente fatto col cuore. Vi ringrazio tutti, scusate che sono andato molto lungo, ma ci tenevo a farvi capire che parte dal cuore tutto questo. Grazie mille e go Marci go!